gentili telespettatori ben trovati consueto appuntamento con Antonio Marino il direttore generale della BCC di Aquara per parlare di economia ben trovato direttore buongiorno buongiorno a voi ecco ci sei mancato perché la scorsa settimana gli appuntamenti sono saltati ahimè per colpa mia lo devo dire ai nostri telespettatori ma recupereremo senz'altro allora io volevo subito mostrare direttore questa bella locandina che ho visto sulla promozione del sito internet della BCC di Aquara e mi ha colpito l'idea delle tabelle perché la scelta spiegaci bene il significato bisogna dire questo manifesto è stato fatto in casa diciamo non abbiamo commissionato a nessuno ed è un modo per veicolare l'idea della banca locale quindi preferisci la banca locale nel senso che siamo a chilometro zero mentre tutte le altre banche che vengono da sei settecento novecento chilometri di distanza quindi è questa eh come devo dire questa scelta di privilegiare la salernitanità eh anche perché se noi andiamo in un'altra parte d'Italia proviamo lo stesso queste altre grosse banche però non troveremo certo le nostre banche salernitane per cui noi diciamo che a parità di condizioni per l'amore di dire bisogna preferire la banca locale perché è un modo anche per impreziosire la nostra provincia per investire nella nostra provincia che è la cosa più importante perché le banche grosse giustamente gli utili che producono qui li portano poi da un'altra parte insomma no distribuiscono il dividendo ma i soci di queste grosse banche non sono certo di salerno quindi il dividendo il profitto va da un'altra parte quindi investiamo su di noi che è la cosa più importante facciamo crescere quelle che sono le nostre aziende anche bancarie e andiamo avanti perché eh oggi non ci regala niente nessuno per cui o lo facciamo in casa quello che dobbiamo fare altrimenti perdiamo. Assolutamente sì e passiamo a questo punto al secondo cartello anche questo molto interessante secondo me anche per tanti risparmiatori e ne approfitto poi anche di parlare della dell'agenzia di Agropoli eh per capire lo stato diciamo così di lavoro qual è il movimento e il bilancio da dall'apertura d'oggi? Agropoli sta dando buoni risultati sono tre mesi che dunque marzo, aprile, maggio ci sono quattro mesi eh sembra ieri però sono già quattro mesi e devo dire che i numeri si fanno si fanno vedere insomma ecco eh abbiamo aperto molti conti correnti e anche grazie a questo manifesto che diciamo passa a BCC apri un conto corrente e sceglie la disponibilità, convenienza e futuro. Disponibilità questa ce la riconoscono tutti i nostri clienti che il nostro personale eh molto disponibile eh sul lavoro chiaramente eh convenienza perché le nostre condizioni sono migliori noi ogni giorno confrontiamo e ci confrontiamo con gli estratti conti di altre banche e devo dire che nel novanta per cento dei casi eh abbiamo noi le le condizioni di gran lungo più convenienti anche il futuro perché tutti i nostri servizi innovativi a cominciare dall'inbank e il collegamento internet con la banca ormai i nostri clienti possono eh evitare di venire in banca ma basta eh tenere in mano il cellulare col cellulare ormai si riesce a fare tutto con grande sicurezza con grande celerità quindi senza spendere soldi e andare avanti e dietro e questo è il vito nostro venite ad aprire il conto da noi perché ci sono tutte queste credenziali molto bene invece per terminare chiudiamo con quest'altra offerta insomma che la BCC di Aquara mette a disposizione il mutuo giolli anche qui eh devo dire che eh abbiamo fatto questo prodotto che è molto economico eh massimo trentamila euro e massimo sette anni mi pare che può durare rate mensili che è per tutto per tutto cioè nel senso che per qualunque spesa di famiglia di piccola azienda eh di un professionista eccetera che serve questa piccola somma di trenta fino a trentamila euro può utilizzare questo mutuo che è molto conveniente noi vediamo ogni giorno qui da noi quanti ridici arrivano i conti correnti per addebito di rate eh per mutui contratti presso le finanziarie eh le finanziarie noi lo vediamo ogni giorno hanno assi sicuramente più alti dei nostri perché lo lo vediamo ogni giorno dei confronti che facciamo ecco perché noi proponiamo anche noi questo mutuo che è semplice accessibile anche veloce eh perché per tutte le esigenze della famiglia della piccola impresa dicevo e dei professionisti quindi siamo anche in quel segmento credenzio siamo ben presenti e ben presidiati da questo mutuo giochi molto bene direttore io ti ringrazio come sempre la prossima settimana anticipiamo già i nostri telespettatori eh che parleremo di della ripresa un po' delle attività del movimento insomma anche in banca delle varie filiali della BCC di Aquara qual è la situazione e che cosa si prospetta in virtù della stagione estiva? Grazie direttore. Grazie a voi, arrivederci.